Però è anche vero, come dicevi tu, il Verona, che è come sossuolo, come forza, al di là della classifica attuale, forse l'avete affrontato in maniera diversa. Può essere comunque un momento un po' più lancuna squadra, un po' per gli infortuni che si porta avanti a tempo. Può essere un momento comunque più difficile? Sì, è un momento particolare, però non ci dobbiamo pensare, dobbiamo pensare già a provare a fare bene domenica prossima e a dimenticare questi partiti. La curva sotto è questo.